benvenuti amici di smart world punto it oggi è mercoledì 29 aprile ma non mi perdo troppo in preamboli perché ieri abbiamo saltato a causa impegni di lavoro e quindi parto subito con i due minuti di android world anzi di smart world di oggi che avranno una forte componente però di android world e vi spiego subito perché perché ieri sera siamo stati alla presentazione di lg g4 del quale abbiamo realizzato un'anteprima un confronto con g3 anche a carattere fotografico quindi due articoli separati da guardare trovate il link sotto questo video su smart world invece tornando un attimo all'origine abbiamo recensito dell xps 13 versione 2015 probabilmente il miglior ultrabook attualmente in commercio con windows 8.1 trovate tutti i dettagli nella recensione vi segnaliamo anche un interessante progetto su kickstarter chiamato xx array che trasforma voi stessi in un avatar da usare nei videogiochi è probabilmente il sogno di ogni bambino ancora in realtà proprio non ci siamo andate a vedere comunque tutti i dettagli passiamo un attimo al mondo mobile dove un giornalista che segue da tanto tempo il mondo microsoft ha affermato che windows 10 potrebbe includere il supporto alle app android al momento una fortissima indiscrezione ma staremo a vedere microsoft sembra puntare veramente moltissimo su questo windows 10 il cui lancio è sempre più atteso parlando però di mobile world non posso non citare il nostro unboxing di apple watch sport edition andate a vederlo non mi voglio ancora sbilanciare proprio perché appena arrivato ma ovviamente avremo modo di ripararle moltissimo nei giorni a venire per quanto riguarda facebook facebook un po minaccia l'europa se mi passate il termine a causa di leggi un po contraddittorie e frammentarie che potrebbero portare il social network a limitare certi suoi servizi nel vecchio continente ci sono anche le prime indiscrezioni sul surface 4 di microsoft che potrebbe essere fanless quarta generazione di un tablet laptop dal successo sempre un po incerto ma comunque molto interessante abbiamo realizzato anche uno dei confronti fotografici che vi piacciono tanto tra s5 ed s6 lo trovate anche questo ben in evidenza su smart word mentre spostandoci su smartphone android oggi è stato il giorno di una nuova piccola rivelazione di stonex che ci ha svelato che il suo stonex one avrà un costo di produzione inferiore ai 350 euro e che alcuni fortunati acquirenti potranno acquistare ovviamente a pochissimo sopra il costo di produzione ancora non sappiamo bene come però intanto c'è un piccolo gioco che potete fare che si chiama smash fun e con niente a che vedere con il vecchio discorso di oneplus di rompere telefoni veri ma non vi voglio svelare troppo infine vi abbiamo spiegato come attivare l'interfaccia trasparente su youtube web e il nuovo maps lite che è una versione un po a metà tra il vecchio maps e quello nuovo con un interfaccia in qualche modo simile a quella di android